Il rapporto 5 a 1 salverà la tua relazione. Ti sto parlando degli studi di John Gottman, psicologo studioso già dagli anni 70 delle relazioni di coppia, che aveva ipotizzato che per ogni interazione negativa col tuo partner, interazione rabbiosa che contenesse quelli che lui chiama i cavalieri dell'apocalisse, il dirisprezzo, la critica, il difensivismo, il sarcasmo, ce ne debbano essere 5 positive. Cioè lui sostanzialmente dice che se si sfora su questo rapporto di 1 a 5, la coppia sarà troppo litigiosa, il clima diventerà prevalentemente negativo, si creerà una sensazione di incompatibilità in uno dei due partner, che più probabilmente sarà propenso ad optare per la rottura. Ci sono tra l'altro degli studi alatere che dimostrano che se non avviene neanche una piccola scaramuccia ogni 11-15 interazioni, la coppia rischia di entrare in uno stato di monotonia.